Woman Lab è un laboratorio dove delle donne aiutano le altre donne a realizzare il proprio sogno professionale attraverso la rete. Noi abbiamo una pagina Facebook di Woman Lab dove promuoviamo anche dei corsi per aiutare le donne a finalmente ritrovare quello che sono i loro, aprire i loro cassetti e realizzare i loro sogni professionali perché magari hanno perso il lavoro, sono state licenziate quando sono diventate mamme e quindi attraverso Woman Lab loro riescono a trovare la forza, l'autostima e la grinta per andare avanti. Quante donne ad oggi siete riuscite ad aiutare con questa idea, con questo progetto? Tantissime donne, anche perché se si collegano alla pagina Facebook già fanno delle domande e noi già attraverso Facebook le aiutiamo senza fare i corsi. Poi in specifico con alcune donne che hanno proprio bisogno di essere seguite personalmente facciamo dei corsi specifici. Un'ultima osservazione, quanto è importante per una donna, e non solo per una donna probabilmente avere la convinzione dei propri mezzi, cioè l'autostima? È tutto, è a volte il contesto sociale dove vivono, che le comprimono, non permettono loro di venire fuori fuori nel loro vero valore, con le loro forze, perché vengono compressi dalla società. L'Italia è un paese ancora, secondo te, patriarcale? Ancora sì, purtroppo sì. Però abbiamo qualche segnale di miglioramento, anche a livello politico vediamo che molte donne stanno riuscendo ad arrivare in quei ruoli che erano prettamente nostri. Per una donna è più difficile? È molto faticosa, molto difficile, ma non è impossibile, perché le donne sono molto tenaci e quindi anche davanti alle difficoltà sono molto proattive e non si fermano.